Dieci giorni fa ho aperto il dibattito con un articolo che è stato pubblicato sul Libro Quotidiano, proprio sulla conta dei decessi, perché noi abbiamo calcolato che il 40% di questi decessi che vengono comunicati come Covid non sono morti a causa del Covid, sono morti purtroppo per altre patologie per le quali si erano ricoverate e contemporaneamente erano anche positivi al Covid, quindi proprio oggi abbiamo avuto una riunione con il Presidente Fontana e con la Vice Presidente Letizia Moratti, Assessora Welfare e tutti gli assessori ed è stata inoltrata al Governo una lettera proprio per rivedere i parametri, perché la comunicazione anche dei dati è molto importante, perché l'aumento dei contagi e dei positivi c'è esatto, il 40% anche dei positivi sono addirittura asintomatici, quindi non hanno nessun sintomo ed una patologia lieve, ma soprattutto per ricalcolare in maniera corretta anche il numero dei decessi e non creare allarme nella popolazione, perché i numeri che vengono comunicati sono abbastanza alti, ieri abbiamo avuto quasi 300 decessi calcolati come Covid, comunque la variante Omicron non è considerata letale a meno che non colpisca persone che hanno patologie sottostanti come ipertensione, obesità, diabete, malattie metaboliche, cardiopatie, cioè tutte quelle malattie che possono aggravare un decorso che nella maggioranza della popolazione invece è cosiddetto benigno. Noi abbiamo avuto questo aumento naturalmente dovuto alla socialità che è accaduta tra Natale e Capitano, le cene insieme, perché questo virus soprattutto, siccome è aereo, noi che siamo tutti con le mascherine, siamo tutti attenti, si prende quasi esclusivamente a tavola, alle cene o ai pranzi con più persone, quando c'è un positivo, nel momento in cui noi ci sediamo, ci togliamo la mascherina per un'ora, parliamo se c'è un positivo, ahimè ci ammaliamo. Eh sì, prima di salutare la domanda delle domande, lei si ricorderà quando parlavamo di polmonite bilaterale, medicine che non c'erano, il cortisone sì, il cortisone no, i vaccini non c'erano, trattare come un'influenza questa pandemia, ci furono delle dichiarazioni che sono rimaste agli atti perché in quella fase forse erano fuori luogo, però il tema ritorna oggi con il vaccino al 90% in Italia, ma anche in Spagna e le rilancia il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha aperto il dibattito a livello europeo, sostenendo che adesso bisogna entrare in una fase in cui si tratta questa malattia in forma endemica, e cioè tra i vaccinati come se effettivamente fosse un'influenza. Lei che cosa ne pensa? Io penso che sia corretto perché stiamo, tutte le misure che il governo ed ogni regione, in particolare le regioni di Lombardia, hanno messo in atto, stanno traghettando, la pandemia sta diventando endemica, non più endemica. Certo che il numero altissimo di contagi impressiona, ma ripeto, questa variante non ha nulla a che fare con il coronavirus iniziale, il virus D1 che provocava delle polmonite intestiziali letali, abbiamo visto tantissime persone. In questo periodo noi di polmonite intestiziali non ne vediamo, quindi è sicuramente una forma che, avendo incontrato una barriera anticorpale nella maggior parte della popolazione, si è, come dicono gli scienziati, raffreddorizzata, cioè attenuata nella sua patogenicità violenta iniziale. Ma non per questo bisogna sottovalutarla, bisogna continuare a cercare di non trasmettere la malattia, di non diffondere il contagio e cercare di andare avanti, soprattutto di vaccinarsi, perché voi avete visto che la vaccinazione di massa che è stata intrapresa in Italia e in ogni regione ha cambiato radicalmente il quadro epidemiologico di due anni fa o di un anno fa. Eh sì, i bollettini dell'IS assessore... Ha battuto quella mortalità che era inevitabile. Grazie a tutti.